Svolta dei 5 stelle sull'immigrazione via gli irregolari no ai centri di identificazione ed espulsione in tutte le regioni come proposto dal ministro dell'interno Minniti. Un piano che alimenterebbe sprechi, illegalità e mafie si legge in un post sul blog di Beppe Grillo. Il progetto del Viminale prevede l'apertura di CIE da 100 posti al massimo in ogni regione tranne Molise e Val d'Aosta e la creazione di un garante dei migranti. Verrebbero trattenuti solo gli stranieri considerati socialmente pericolosi. Interviene il procuratore aggiunto di Venezia. La rivolta del centro migranti di Cona è stato un brutto sintomo e non si può nemmeno escludere che possano esserci delle infiltrazioni di tipo terroristico, dice Carlo Norgio.